Buongiorno a tutti e ben trovati nell'angolo verde di Angela. Oggi in questo video vi mostrerò come conservare i semi. In questo caso si tratta di semi del fagiolino. Quest'anno ho seminato molte file di fagiolino e una di esse l'ho destinata a fare da sementi per l'anno prossimo. Come vedete c'è già il fagiolino che sta crescendo. Dopo un primo raccolto lo lascerò crescere indisturbato. Le settimane si susseguono ed io quando la maggior parte è già bello grande cesso con le annaffiature. In questo modo i semi matureranno all'interno. Le piante sono completamente secche raccolgo tutte fagioline e tiro fuori i semi. Conseverò tutti quelli che sono sani. Mi raccomando di buttare quelli che non sono buoni o troppo piccoli. Ricordate che lo scopo è quello di avere delle ottime sementi. Eccone alcuni. Verranno conservati in bustine di plastica al cui interno consiglio di mettere poco fungicida che ha lo scopo di conservarli al meglio. Sigillo le bustine con dello scoccio, scrivo eventualmente la data e li conservo al buio e in un luogo asciutto. La prossima primavera saranno piantati e avrò nuove piante. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi sui social. E come dico alla fine di ogni video ciao e una buona giornata a tutti.